Dottor Bramezza ha un nuovo servizio per San Michele a tagliamento, un modello organizzativo tra l'altro che funziona, che state sperimentando e che anche qui volete spingere alla grande? Sì, l'azienda sanitaria in collaborazione con il comune San Michele e la casa di riposo di Dozzuzzi hanno voluto spostare il servizio di continuità assistenziale dalla vecchia sede distrittuale all'interno di questa struttura. Questo per due motivi fondamentali, innanzitutto per creare dei locali più nuovi, più sicuri per l'utenza e per i medici che lavorano dentro, ma soprattutto perché portiamo all'interno di una struttura che ospita 100 persone non autosufficienti la guardia medica, che quindi può essere utilizzata sicuramente dagli esterni, come è sempre stato, ma anche dalla struttura stessa nei giorni in cui il fine settimana o la notte non è presente il medico della struttura. Vantaggi per gli ospiti, per gli anziani nella struttura, ma anche vantaggi per la popolazione perché ci saranno delle novità a breve? Diciamo che avendo liberato gli spazi del distrittuale a San Michele, dove prima c'era la continuità assistenziale, avendoli portati qua, si liberano degli spazi nei quali prossimamente, nel giro di qualche giorno, andremo ad inaugurare nuovi servizi che portiamo qua a San Michele per i cittadini da parte delle unità operative dell'ospedale di Portogruano. Grazie.